Evitare il più possibile la verificarsi di rapine, furti e truffe ai danni dei cittadini. E' questo l'obiettivo delle misure contenute nell'intesa di durata biennale firmata dal prefetto di Matera Sante Copponi e il responsabile nazionale per la sicurezza dell'associazione bancaria italiana Marco Iaconis, il rinnovo di un protocollo per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela. Le parti hanno concordato di rafforzare la collaborazione su questi temi con i diversi soggetti del territorio a cominciare dalle forze dell'ordine che ha dato risultati positivi nel recente passato con un contenuto verificarsi dei reati. Buone pratiche, esperienze e le più moderne tecnologie saranno impiegate per raggiungere gli obiettivi. Il prefetto ha ricordato quanto è stato messo in campo con i protocolli di sicurezza per incrementare i servizi di videosorveglianza nei comuni.